cari amici di santina buongiorno sono venuto dalla mia marta a comprare il pane qui ad albano sant'alessandro panificio cortinovis uno dei pani più buoni che oggi voglio assaggiarmi a casa ma oltre il pane guardate vendera vendera mon chéri vendera vendera è un libretto sensazionale ma sopra potete vedere i cuori san valentino si avvicina perché al posto di comprare un fiore non comperate alla vostra ragazza un libretto così insieme potrete fare un'opera di carità per i più poveri per i poveri che non hanno la possibilità di offrire alla propria ragazza un fiore ma adesso entriamo e concedetemi anche il bergamasco perché che noteran parla bergamasco non siamo in italia noi siamo a bergamo ora vado a comprare il pane buongiorno suora buongiorno un po' di pa un po' di pa un po' di pa metto da del pane si è questo è appena fatto buonissimo buonissimo ve lo fa assaggiare un po' perché io sa che si è nella schiacciatina una schiacciatina normale così va bene normale mi va benissimo signora e una con il sesamo va bene perfetto dopo magari do ancora un po' di pancata posso assaggiarne una? altro che sarà giusto le schiacciatine qui dalla Marta venite solo per quelle sono squiriglia già volevo parlare quasi le dote due bei panini una bella rosetta benissimo una bella rosetta e due bei panini così fino a domenica sono a posto ne signora brava brava sono molto buoni va benissimo dopo mi hai detto a te perché esco il tempo mi sono chiesto anche un libretto e la vendita ma che la chiamò? si si le abbiamo a posto ma che bello ma che bra a che bello ma quanto al costo che lo chiede? per il suo buon cuore quello che vuole quello che voglio si quello che vuole ma perché? siccome è per la fondazione Santina se ci va un'offerta va grandissimo va bene posso lasciare 50 euro come offerta? altro che bene vediamo se guardi ve lacio 50 euro che così appunto ritiene su anche il pane va bene? ok perfetto dovrebbero fare tutti così e allora la fondazione Santina tiriamo almeno assieme qualcosa insomma brava bravissima giusto? cara signora lei è proprio brava mi mancherebbe ma dato che ci siete amici vi devo dire che se vi perdete vendera potete comprare Nicola il nostro prossimo libro fuori di testa che sarà in vendita in tutta Italia nelle librerie da noi 5 euro poi se fate come qualcuno potete anche lasciare 50 euro vi danno il pane vi danno appunto un bel libretto ma in vicinanza di San Valentino non dimenticatevi della vostra ragazza regalategli un cuoricino che a quattro costa questo ci sarà 4 euro quanto viene il cuore? 1 euro e 50 allora 1 euro e 50 e 5 euro di albendeva gli lasciate 10 euro e portate la ragazza questo e gli date anche un bel libretto e sarà felice stessa roba voi ragazze che siete più di tutte forti al vostro fidanzato non fategli un profumo che non gliene frega niente regalategli vendera e il cuore ciao a tutti da Albano mito grande mito di negozio ciao ciao ciao